innanzitutto benedizione e pace a tutti voglio ringraziare dio e il pastore cataldo per questa opportunità voglio benedire questo canale meraviglioso che benedice durante vite parole di vita e che ancora questa sera attraverso quello che lo spirito dell'eterno ha messo nel mio cuore dio possa rilasciare dal cielo qualcosa di fondamentale per ognuno di noi questa sera voglio parlare di qualcosa che sappiamo bene che tante volte conosciamo la storia perfettamente e spesse volte indipendentemente dai titoli dall'incarico ministeriale che possiamo essere pastori e evangelisti profeti insegnanti della parola o semplici credenti ma tutti tutti ci troveremo a passare noi tutti saremo provati e ci troveremo come dice la lettera di giacomo in svariate prove e il titolo del messaggio di questa sera è la benedizione nel deserto tutti noi attraverseremo un deserto spirituale sta chi lo attraversa nel matrimonio sta chi lo attraversa con i figli sta chi lo attraversa con il ministerio con i genitori con i parenti con i propri familiari ci sono deserti economici e tante volte ci chiediamo dove è dio perché mi trovo in questa condizione perché mi trovo in questa circostanza perché mi trovo nel ben mezzo di questo deserto dove sembra tutto arido sterile tutto che non fiorisce ma noi sappiamo bene la storia noi sappiamo che dio è un dio di patto dio è un dio di alleanza dio è un dio fedele e tante volte sento sai noi quando accettiamo il signore noi quando sappiamo dio non ci sono più problemi non ci sono più battaglie questo non è vero perché noi possiamo vedere benissimo che da genesi all'apocalisse dio non abbia detto questo anzi più siamo appassionati per il signore più abbiamo fame più abbiamo sete che lo zelo ci possa consumare ma più saremo provati passeremo per deserti passeremo per delle valori passeremo per delle fornaci gesù disse nel vangelo di meteo in quel sermone sul monte degli olivi mentre stava spiegando ai suoi c'è quel sermone che dice beati coloro che saranno perseguitati perché giustizia loro sarà fatta beati puri di cuore perché vedranno dio beati voi sarete quando a causa del mio nome diranno ogni falsa cosa contro di voi e vi metteranno davanti ai tribunali ma voi non tenete perché io metterò le mie parole sulla vostra bocca e voglio leggere insieme a voi un verso che si trova nel libro dell'esodo al capitolo numero 13 al versetto numero 21 e 22 e dice così la scrittura il signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarvi lungo il cammino di notte in una colonna di fuoco per illuminarli perché potessero camminare giorno e notte egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo fin qui questo primo punto che lo spirito di dio ha messo nel mio cuore sappiamo la storia sappiamo che mosè sarà chiamato da parte di dio da quella roveto ardente e dopo 430 anni di schiavitù dio disse a mosè ho udito il grido del mio popolo lì in egitto e eleva innalza mosè come liberatore di quel popolo sappiamo che il cuore di faraone era indurito sappiamo le dieci piaghe ma arriva il momento della liberazione e partirono da ramases che era il faraone per succot circa la bibbia dice 600 mila uomini senza contare donne e bambini con una grande quantità di bestiame con oro e argento e iniziarono a vagare nel deserto e c'è questa scena mosè mentre loro camminavano loro iniziano a mormorare mosè tu ci hai portato a morire nel deserto morè mosè tu ci hai portato ad essere qui era meglio per noi morire in egitto perire lì e ad un certo punto dio provvedeva manna tutti i giorni e c'è questa scena soprannaturale straordinaria una roccia che camminava e accompagnava il popolo e qui entriamo nel messaggio noi ci troveremo in dei deserti noi ci troveremo in delle prove noi ci troveremo a passarli per la nostra vita affinché la nostra vita possa essere formata e ci tengo a dire una cosa ci sono due tipi di deserto ci sono i deserti che dio prepara per noi la bibbia dice che gesù fu condotto dallo spirito nel deserto sappiamo che mentre gesù era lì in digiune in preghiera nel deserto è il nemico satana si presenta e gli dice ma di a queste pietre che diventano pane poiché ogni parola che uscirà dalla tua bocca sarà vita sarà fatto ma gesù risponderà e altri sì scritto non di solo pane vivrà un uomo ma di ogni parola che uscirà dalla bocca di dio noi lo leggiamo nel vangelo di matteo ma in realtà gesù lo stava rilasciando lo stava dicendo dal deuteronomio perché gesù aveva fatto il bar mitzvah che era lo studio lì in israele perché gesù cresceva nel tempio più avanti dirà ma gettati giù sempre che gesù lì si trovava nel deserto poiché dio ordinerà a degli angeli che tu non toccherai nemmeno con un dito il suolo della terra ma gesù ancora risponde con la parola e altresi scritto satana non tentare il signore dio tu e poi lo porta davanti a quella terra e gli dirà io ti darò tutto questo e la propria ricchezza di questa gloria se tu prostrandoti mi adorerà e allora il signore disse vattene satana perché sta scritto adora il signore dio tuo e solo a lui devi rendere il culto e la bibbia dice che degli angeli arrivarono e iniziarono a provvedere cibo e acqua per gesù gesù entrò e fu condotto dallo spirito ma il deserto che dio prepara da per noi non solo lo spirito ci guida e ci conduce nel deserto ma noi ne usciamo con la potenza di dio perché la bibbia dice quella roccia quando la parola è con noi il deserto che gesù è la roccia dei secoli quando la parola è con noi quando è il fondamento perenne che non viene a venire la bibbia dice nel libro dei salmi che la sua parola è una lampada al nostro piede è una luce sul nostro sentiero qualche altra traduzione dice una luce nella via che ci è posta davanti quando la roccia è con noi nel deserto la bibbia dice che scaturiva dell'acqua a noi mai mancherà nulla di giorno e di notte dio non allontanava alla nuvola la nuvola della gloria non allontanava la colonna di fuoco di notte per farli camminare perché nel giorno e nel notte anche quando siamo nella prova e nel deserto dio non verrà mai meno e non ci abbandonerà mai ma ci sono a volte dei deserti che noi ci cerchiamo quelle nostre proprie mani ah e perché era raffaele elia primo libro dei re lui esce allo scoperto profetizza una siccità sulla nazione che per tre anni e sei mesi non doveva né piovere né rugiada niente e per la proclamazione della bucca che fu riuscita alle labbra di elia questo fu fatto lui si sposta la parola dell'eterno gli fu rivolta dicendo elia spostati vai presso il torrente che ritte dio prevedeva attraverso dei corni del cibo della carne per lui e libero dal torrente poi ancora l'eterno gli disse spostati a via starepta dei sidoni e dio provvedeva attraverso quella vedova e la bibbia dice che l'olio non mancava e la farina non diminuiva finché l'eterno non mandò la pioggia sul paese lui ha il coraggio di sfidare sul monte carmelo 450 profeti di ba e 400 profeti di asherot ormai israele veniva fornita da questi profeti pagani che erano lì a servire alla corte di acabe di isabel e tutti gli altari della nazione si fornivano di sangue innocente di stregoneria ormai c'era un apostasia totale un declino morale ma soprattutto spirituale tremendo ma dio alza il suo profeta lui ha il coraggio di sfidare questi profeti da solo e già umanamente qualcosa di impossibile e impensabile un uomo che combatte ma vince 850 persone da solo perché quando dio è con noi chi sarà contro di noi tutti ma la bibbia dice che quando anche un esercito si accampa contro di noi non temeremo alcun male perché egli è con noi lui vince nel pieno del suo ministerio nello zero nel pieno di quello che il signore fa arriva una parola una sola parola un'esclamazione da parte di idèo domani a quest'ora gli dèi mi trattino con tutto il proprio rigore se non farò di te quello che tu hai fatto ad ognuno di loro la bibbia dice che elia iniziò a scappare via tremando ebbe panico lasciò tutto e la bibbia dice lasciò anche il suo servo e si inoltrò in un deserto dettaglio dio non aveva preparato quel deserto per elia dio non aveva condotto con il suo spirito elia per entrare in quel deserto ci sono deserti che noi entriamo per le nostre paure per le nostre convinzioni per il nostro modo di fare per il nostro modo di pensare per il nostro modo di agire ma che dio non ha preparato per noi ma quando noi siamo guidati e dobbiamo entrare e dobbiamo camminare nel deserto né di giorno né di notte mai mancherà nulla la nostra vita e probabilmente qualcuno si trova proprio in questa condizione si trova in un deserto ministeriale si trova nel deserto con la chiesa si trova nel deserto con il suo matrimonio con i propri figli con il proprio lavoro con la propria economia io voglio dirti questo ai figli di israele per 40 anni la bibbia dice che le vesti non si consumavano e i sandali ai piedi non si logoravano ah pastore facevano i bambini e i vestiti crescevano insieme ai bambini e le scarpe crescevano insieme ai bambini dio non ha fatto mai mai mancare niente il deserto è un buon luogo per noi se lo guardiamo sotto l'aspetto profetico e spirituale perché perché quando dio ci guida nel deserto noi comprendiamo tante cose meditiamo la sua parola camminiamo come vuole che lui ha stabilito che dobbiamo camminare comprendiamo della sua provvidenza usiamo della sua onnipotenza ma gustiamo soprattutto della fede che egli ha donato per noi perché la fede è un dono di dio dice la scrittura e quando noi realizziamo che non abbiamo niente non abbiamo posizione a mano non abbiamo risorse non abbiamo le nostre forze ma ci arrendiamo a lui e le posizioni che dio ci ha dato anche nel ministerio questa è una rivelazione che il signore mi ha dato dio ci ha dato ministeri e posizioni per una funzione affinché quello che dio ci ha donato non possa innalzare noi ma possa innalzare lui perché quello che dio fa tante volte noi cerchiamo ad usarlo per innalzare noi dio si usa di noi per innalzare lui e nel mezzo del deserto io immagino mosei con 600 mila persone a volte ascoltare due tre dieci persone che si lamentano ognuno dice la propria è difficile 600 mila persone che iniziano a mormorare e mosei in un certo punto si trova davanti al mare si trova il popolo che mormorava nonostante dio aveva benedetto ogni cosa aveva provveduto aveva fatto gustare qualsiasi cosa dietro arriva il faraone con gli egiziani con carri e cavalieri panico totale quante volte nel deserto vogliamo gettare la spugna non c'è proprio più pia d'uscita e mosei iniziò a gridare a dio perché nel deserto cosa possiamo fare possiamo solo gridare a dio sì possiamo solo gridare a lui mosei griderà e sembra un po inopportuno il nostro signore dicendo mosei perché gridi a me ma come signore a chi devo gridare il popolo che inizia a mormorare io trovo il faraone di spalle siamo fritti siamo morti non c'è speranza ti ho dato una verga nelle tue mani vuotila sulle acque e questa sera io voglio profetizzare questo nel nome di gesù a qualcuno il signore ha dato questa verga ed è un ministerio apostolico ed è un ministerio profetico è un ministerio evangelistico è un ministerio pastorale è un ministerio di insegnamento è un ministerio di intercessione dio ti ha dato un dono come dice paolo nella lettera dei corinzi a chi ha dato doni di di governo di profezia di discernimento degli spiriti sei un fratello una sorella che ama che ama il signore qualsiasi cosa dio ti ha dato una verga nel mezzo del deserto che ti trovi percuoti le acque percuoti le acque percuoti le acque di ho detto ti ha dato una verga usa usa quello che dio ti ha dato la sua presenza dio ci ha dato la sua parola dio ci ha dato il suo sangue prezioso che nel momento più buio e profondo della nostra vita dio aprirà sempre un cammino davanti a noi la bibbia dice che la nubola non si allontanava mai dio riverserà sempre gloria benedizione restauro con la sua presenza abbondante per coloro che sperano in lui per coloro che vogliono dimorare in lui e la bibbia dice che gesù disse nel vangelo di giovanni chi dimora in me io dimorero in lui nel mondo avete tribolazione ma fatevi animo fatevi animo perché io ho vinto il mondo e che cosa dice la lettera romana noi siamo più che il vincitore anche nel deserto il popolo quando iniziò a passare a terra asciutto iniziò a danzare iniziò a rogare iniziò a celebrare di e probabilmente io credo che mosè mentre camminava in mezzo a quel mare aperto probabilmente il signore ha liberato quel salmo meraviglioso il salmo 91 che dice chi dimora all'ombra dell'onipotente vivi al riparo dell'altissimo in linea cadranno a destra 10.000 alla mia sinistra la freccia del giorno non mi colpirà e non sto avvinto di notte perché lo spirito dell'eterno è la nostra caparra e gli cammina davanti a noi e gli cammina dietro di noi c'è un uomo straordinario che dice la scrittura l'angelo di luca dice se non erro capitolo numero 1 numero 2 versetto numero 80 non lo ricordo bene dice che intanto il bambino cresceva nel deserto chi era questo bambino che poi è diventato grande giovane il battista la bibbia dice che era una fiamma di fuoco una torcia risplendente cresceva nel deserto il deserto ci porta a crescita spirituale soprannaturale il deserto ci porta a crescita nella parola perché quando noi odiamo la parola ma quando noi realizziamo la parola quando noi navighiamo nella parola e nel momento che ci troviamo nel deserto la applichiamo quella parola diventa carne dentro di noi come Dio disse ad Ezechiele mangia questo rotolo quando noi mangiamo il rotolo e scendere il nostro interiore spirituale realizziamo che la parola è vivente Giovanni cresceva nel deserto e per cui la predicazione la predicazione semplice 3.000 uomini al giorno si convertivano al Signore il deserto porta a fuoco porta passione dentro di noi perché nel mezzo del deserto di ha stabilito la sua benedizione tutti passeremo tutti passeremo per il deserto ma Dio ha promesso sempre che mai 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 ci lascerà ed è la nostra vanguardia il retroguardia ed è il vanguardia della nostra vita ed è la roccia dei secoli e la nostra roccaforte e voglio continuare in un verso che si trova nel libro del profeta Isaia capitolo 35 versetto numero 1 e numero 2 e dice così la scrittura il deserto e la terra arida si rallegreranno la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa si coprirà di fiori festeggerà con gioia e con canti d'esultanzi le sarà data la gloria del Libano la magnificenza del Carmel e di Sharon e si vedranno la gloria del Signore la magnificenza del nostro Dio io amo la parola di Dio sono molto affascinato perché dico come poi il deserto e la terra arida gioirà e rallegrarsi sono un luogo non una persona perché il deserto e la terra arida gioirà perché la Bibbia dice che quando noi siamo obbedienti al Signore ogni luogo che la pianta del nostro piede calpesterà Dio ce la darà come eredità anche nel mezzo del deserto quando noi siamo obbedienti e obbedienti all'Onnipotente tutto quello che intorno a noi è benedetto è prospero e ogni cosa è traboccante anche il deserto si rallegrerà e anche la terra arida gioirà e poi dice essi lo vedranno ti lo vedranno coloro che sono davanti a noi intorno a noi dietro di noi e nonostante noi siamo provati siamo perseguitati siamo incompresi siamo ingiuriati ma vedono che nonostante tutto questo siamo fedeli al Signore siamo obbedienti al Signore io amo un salmo di Davide che dice che quelli che confidano nel Signore nel loro volto non c'è delusione come non ci può essere delusione quando improvvisamente qualcuno che c'è più caro ci tradisce quando probabilmente un pastore viene meno nella nostra vita quando probabilmente il lavoro viene meno i nostri genitori perché la Bibbia dice anche se tua madre e tuo padre ti abbandonassero può succedere ma io non ti abbandonerò mai come può nel volto di uno non non avere delusione se la vita probabilmente è stata dura o è avuto una grande battaglia una grande prova nella sua vita perché la gioia del Signore nel deserto è la fonte della vita nel deserto nell'oppressione nella depressione è di una cura perfetta per quelli che hanno il cuore rotto e gli metterà delle bende dice il nome dei salmi per quelli che sono afflitti e gli è il consolo attraverso il consolatore per eccellenza che lo Spirito Santo e la terra arida si rallegrerà perché quando noi cammineremo la benedizione ci perseguiterà la benedizione sarà davanti a noi dietro di noi intorno a noi e anche nel deserto la benedizione che Dio ha stabilito porterà frutto e frutto abbondante frutto e frutto abbondante voglio continuare con un verso sempre che si trova nel libro del profeta Esaia capitolo 43 versetto numero e dice così la parola ecco io sto per fare una cosa nuova essa sta per germogliare voi non la riconoscerete e il signore farà domani sì io aprirò una strada nel deserto farò scorrere dei fiumi nella steppa io sto per fare una cosa nuova tu che ti trovi nel deserto guarda la benedizione del signore o probabilmente io e te che ci troviamo nel deserto Davide disse io alzo gli occhi a monti da dove mi verrà l'aiuto questo capitolo come inizia quando attraversere le grandi acque esse non ti sommergeranno quando passerebbe il fuoco la fiamma non ti consumerà ecco io sto per fare una cosa nuova voi non la riconoscerete sì io farò scorrere i fiumi di acqua viva nella steppa sapete che dentro di noi c'è un fiume il salmista lo dice io sono nel fiume del deserto io faccio scorrere i fiumi di acqua viva Gesù disse che ha sete venga e beva perché dal mio seno sgorgeranno fiumi di acqua viva e Ziacchiele nel capitolo 47 se non erro disse che in una visione da parte del signore di lui disse figlio d'uomo ora guarda e lui vedeva che dal trono dal tempio santo di dio riusciva un fiume e questo fiume qualsiasi cosa toccava qualsiasi cosa veniva sommerso da questa acqua prendeva vita quel fiume dentro di noi perché la parola è in noi ecco perché dio farà scorrere fiumi di acqua viva nel deserto ecco perché dio ha posto la benedizione nel deserto ecco perché dio ha detto che la terra arida si rallegrerà ecco perché dio sta facendo qualcosa di nuovo e lo voglio profetizzare io sto facendo qualcosa di nuovo nella tua casa nel tuo ministero nella chiesa che dio ti ha posto come operario come fratello come credente io sto facendo qualcosa di nuovo in questo paese in questa città in questa nazione essi lo riconosceranno chi le persone quello che non hanno creduto nella nostra vita quelli che non hanno creduto al tuo ministero quelli che non hanno creduto alla tua chiamata quelli che non hanno creduto nei tuoi valori nei tuoi principi ma dio ha stabilito come dice la scrittura il suo decreto la sua sentenza la sua parola la sua proclamazione perché noi passeremo passeremo chi in un modo e chi nell'altro io amo libro del profeta daniele capitolo numero 4 dice che ho il capitolo numero 3 se non erro che sadrach mesachia bel nego erano lì a babilonia e guardate quando noi abbiamo un'identità spirituale insieme a daniele babilonia era la nazione più potente del mondo si mangiava cibo gourmet si stava bene loro vengono deportati come schiavi ma loro decidono il proprio cuore di non contattarsi in altre parole loro non si sono sottomessi a babilonia babilonia si è sottomessa loro perché perché noi siamo ambasciatori di cristo in ogni luogo dove andiamo noi apparteniamo ad un regno e quel regno è un regno irremovibile è un regno stabile per sempre e qualsiasi cosa Gesù disse ogni autorità mi sta natata nelle mani tutto è sottomesso e sottoposto a lui loro decisero di non contaminarsi e sapete quando noi decidiamo questo nel nostro cuore sempre si auseranno di cose persone che ci condanneranno che ci punteranno il dito che cercheranno la cosiddetta pagliuzza allora il re napucodono sornò sin orgoglieni fece questa statua fece dirigere questa statua nella pianura di dura lì una provincia della babilonia e chiunque non si prostrava avrebbe stato progettato nella fornace dettaglio la fornace fu elevata sette volte in più tutto il popolo svinchina questa scena noi abbiamo la mente di cristo immaginiamo che il popolo svinchina il suono del corno ma questi tre giovani rimangono all'impiede perché non mi inchinate pure voi ore vivi per sempre il nostro dio ha il potere di liberarci e ci libereranno ma anche se non lo facesse anche se non lo facesse noi comunque non ci prostra e non adoreremo questa statua che tu hai fatto ridire furono aggettati nella fornace il tempo passato probabilmente un'ora o due ore non lo so ma una cosa certe ridisse ma chiamandola raddola perché andò a vedere non erano tre uomini che abbiamo gettato nella fornace certo mio re c'è un altro nel mezzo del fuoco che è simile al figlio di Dio che cammina con i tre giovani che abbiamo gettato nel mezzo del fuoco ci sarà il quarto uomo nel mezzo del fuoco ci sarà quello che ci prenderà per mano e ci farà danzare nel mezzo del fuoco proprio come il popolo di israele danzò nel deserto quando noi ci fidiamo di Dio costi quello che costi ma pur di vedere la sua gloria a prescindere da tutto pur di vedere la manifestazione del soprannaturale in ogni area Dio fa cose straordinarie perché Dio è un Dio di parola Dio di patto Dio di promesse e il suo carattere Dio d'amore Dio di pace e tutti passeremo tutti andremo nel deserto sapete i pastori io sono stato in Israele per grazia di Dio i pastori portano le pecore a volte nel deserto perché cresce tenera erba e il cibo è sostanzioso e buono quella erba è buona per le pecore e la Biblia dice che le pecore la uscita di chi ascolta del buon pastore il pastore eccellente e noi andiamo lì a mangiare quella erba che sta per me ecco perché Dio tante volte ci conduce nel deserto affinché quello che Edi ha stabilito sia manifesto a tutti grazie a tutti